C'è un lato oscuro in ognuno di noi, a volte viene fuori a causa di traumi vissuti nell'infanzia e altre volte è semplicemente innato. Il lato oscuro di Jamie Osuna però, che sia innato o causato da traumi, è semplicemente atroce. Ciao belli d'ezio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Consiglio quindi di mettervi comodi e cominciare a sorridere, perché adesso iniziamo ad indagare sul file di oggi. Nel caso in cui qualcuno se lo fosse dimenticato, ricordo che ho anche un podcast, si chiama Red Room e nella prima stagione insieme ad Eli di Eli in Crimeland vi raccontiamo le vicende inquietanti che hanno ispirato alcuni film horror. Se vi piacciono i video che faccio qui, date un ascolto anche a Red Room, sono sicuro che lo troverete interessante e che vi piacerà. Detto questo direi che è arrivato il momento di parlare di lui, Jamie Osuna. La vita di quest'uomo è un agglomerato di orribili crimini e violenze, quindi oggi ci addentreremo nella sua mente, una mente perversa, deviata e sadica. Vi dico già che alcuni dettagli del caso non sono nemmeno stati resi noti proprio per via della loro crudeltà. Di sicuro in giro ci sono, ci sono state e ci saranno persone peggio di lui, ma fidatevi, Jamie è un caso a parte. Quindi partiamo dal principio. Jamie Osuna nasce il 7 marzo 1988. Cresce a Bakersfield in California, luogo in cui si ambienta tutta la storia di oggi. Il piccolo Jamie ha un fratellastro più grande di lui di due anni e sua madre si chiama Michelle. Questa donna, Michelle, ha avuto il figlio quando era molto giovane. Aveva solo 19 anni. A quell'epoca stava con un ragazzo di 21 anni di cui purtroppo non conosciamo il nome. E solo per comodità, il padre biologico di Jamie, lo chiameremo John Doe. Come in molti casi che ho recentemente trattato su questo canale, il padre del protagonista della storia è un uomo veramente terribile. Incarna proprio lo stereotipo di cui abbiamo ampiamente discusso negli ultimi video. Quindi ha tutte le caratteristiche già affrontate in altri casi. È cattivo, violento, manesco, maschilista e alcolizzato. È una di quelle persone davvero cattive, almeno da quello che sappiamo. Cioè, non è mai stata una brava persona. Specialmente non è stato un buon padre per Jamie e per il suo fratellastro. Né un buon marito per la madre, Michelle. Giusto per farvi un esempio, per farvi capire che tipo di persona era questo John, quando lei era incinta di Jamie, Michelle era incinta di Jamie, John le diede un calcio nello stomaco. E lei era incinta al nono mese, ragazzi. Che schifo. Molte persone ritengono che questo calcio sia infatti il fattore scatenante dei problemi di salute di Jamie. Adesso vedrete che casino. Dato ciò che farà Jamie da adulto, è plausibile che questa aggressione sia davvero la causa, ma come sempre questo è un territorio molto delicato. La psiche umana dà davvero poche certezze, per cui è innegabile che John sia stato un mostro a colpire sua moglie incinta. Ma non sappiamo se fisicamente questo colpo abbia realmente provocato dei danni cerebrali a Jamie. Sicuramente ha causato una malformazione nell'orecchio destro che possiamo vedere anche dalle sue foto. Nonostante questo, è sicurissimo che il padre faceva del male al figlio anche una volta venuto al mondo. In questo periodo in cui Jamie è un bambino, suo padre picchia, abusa e umilia la madre in continuazione e non risparmia neanche i figli. Michelle, dopo che Jamie compie un anno di età, divorzia dal mostruoso John e si mette insieme ad un altro uomo. Ma ovviamente John non approva questo nuovo compagno. Quest'ultimo si chiama Jeff e va molto d'accordo con Michelle, almeno all'inizio. Sembra che lui la tratti bene. Comunque c'è un'intesa tra loro. In altre fonti però vi devo specificare che l'intera vicenda si racconta in maniera un po' diversa. Si dice invece che Michelle e Jeff si siano conosciuti quando ancora la donna stava con John, di fatto mettendogli le corna. Ma direi che le corna sono niente paragonate a tutto ciò che faceva lui, a lei e ai suoi figli. Vabbè comunque si arriva al punto in cui John, in preda alla gelosia, punta un coltello al collo di Jeff e per questo tentato omicidio viene arrestato. John Doe, il padre biologico di Jamie, da questo momento sparisce completamente dalla sua vita. Jamie intanto a quell'età ovviamente capisce poco di tutto ciò che sta succedendo, ma assimila ogni cosa. Ogni violenza e ogni trauma crea una cicatrice indelebile nella sua psiche. Grazie all'assenza di John Doe si può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Michelle può stare finalmente e felicemente insieme a Jeff. Sembra quasi un lieto fine, anzi un nuovo inizio per l'educazione di Jamie e in generale per le loro vite insieme. Peccato però che questo Jeff non è esattamente una brava persona. Di base non si trova in una situazione economica stabile e vuole stare soltanto con Michelle, non con i suoi figli. Cioè non vuole neanche provare ad essere il patrigno di Jamie e del suo fratellastro. Jeff si rivela per niente amorevole con loro, anzi diventa addirittura peggio di John. Perciò questa povera donna si ritrova con un uomo ancora peggiore del suo ex marito che aveva lasciato perché era violento. Quindi immaginate com'era Jeff, se già John faceva tutte quelle cose, come cavolo può essere questo Jeff che è addirittura peggiore? Michelle infatti sente di aver sbagliato due volte, ma non ha il coraggio questa volta di fare un ulteriore passo indietro. Forse nella sua testa crede che ormai sia troppo tardi, semplicemente non ha il coraggio o non riesce a lasciare anche Jeff. Ma il punto è che a pagarne le conseguenze non sarà solo lei, ma soprattutto Jamie. I dettagli di questi nuovi abusi domestici sono molto confusi, anzi credo che molti di questi non siano neanche stati resi pubblici. Perciò quello che vi dirò sarà solo un assaggio di ciò che è veramente successo in quegli anni. L'infanzia di Jamie, ragazzi, è stata un incubo a dir poco. Tanto per cominciare, parliamo di una sorta di incidente avvenuto in un'auto. Un giorno Jamie, Michelle e Jeff decidono di andare insieme a pescare. Trascorrono tranquillamente la loro giornata e almeno in teoria non succede nulla di particolare. Ma una volta in viaggio verso casa, il piccolo Jamie inizia ad urlare, piangere e disperarsi per chissà quale motivo. Però ci sta, cioè alla fine era ancora un bambino molto piccolo. E ovviamente faceva cose da bambino, tra cui ogni tanto lamentarsi. In questo momento Jamie è seduto sul sedile posteriore della macchina, nel seggiolino. E Jeff, infastidito, pretende che la smetta di urlare e di piangere, ma quanto pare in quel momento non c'è modo per far star tranquillo il piccolo. Così, cosa pensa di fare Jeff? Mente geniale proprio. Si sporge verso il sedile dietro, dove è seduto Jamie, apre la portiera e lo butta fuori dall'auto, mentre l'auto continua ad andare. Quindi ecco, Jeff è davvero peggiore di John, peggiore del padre biologico di Jamie che già era una merda. Miracolosamente comunque il piccolo è sopravvissuto e non ha presentato ferite gravi, o almeno si pensava così. Solo tempo dopo infatti verrà constatato che invece aveva avuto dei gravi problemi cerebrali a causa di quella caduta, la famosa botta in testa da bambino. Ma comunque il giorno dell'incidente, se così possiamo chiamarlo, nessuno lo porta all'ospedale. Semplicemente si fermano, lo recuperano dalla strada, lo mettono in macchina e tornano a casa. Ma come vi ho detto prima ragazzi, questa è solo la punta dell'iceberg. Sappiamo che col tempo Jamie, infatti, comincia a manifestare un comportamento piuttosto violento. Per esempio, sempre da piccolo, un giorno ha cercato di pugnalare con una forchetta il suo fratellastro. Già direi un grandissimo campanello d'allarme. Sempre il fratellastro però ad un certo punto va via da quella casa e va a vivere con i nonni. E solo lui, grazie a quel trasferimento, riuscirà a crescere in modo sano e a farsi poi una vita normalissima. Jamie, invece, rimane condannato a un'esistenza molto travagliata. Nessuno sa perché, ma pare che i nonni non volessero adottare, tra virgolette, anche lui. Si dice che per qualche motivo lo odiassero. Ma non è un'informazione certa. La cosa certa è che lui stesso aveva pregato di andare a vivere con i nonni, ma invece è stato obbligato a stare a casa con Michelle e Jeff. E proprio loro, intanto, tra un abuso e l'altro, mettono al mondo altri bambini. Sì. Jeff fa dei figli, e a quanto pare li fa volontariamente. E sinceramente la trovo una cosa disgustosa, cioè anche tu, Michelle, come puoi accettare di fare figli con l'uomo che ha quasi ucciso un tuo bambino? Cioè, ci ha provato almeno perché l'ha buttato fuori dalla macchina mentre andava. E tu, Jeff, come puoi volere figli se hai trattato di merda quelli di tua moglie? Chiaramente non tutti sono adatti a fare i genitori. Cioè, per favore, allora, non facciamo figli solo perché ci sentiamo obbligati, ragazzi. Per favore. Perché ho come l'impressione che ormai tanti facciano figli solo così, tipo per status. Perché sentono che sia una cosa da fare. Ma la realtà è che crescere dei figli in maniera decente, e dico decente, non fantastica, è difficilissimo. Ed è una scelta che va presa in maniera molto consapevole. Se sapete che forse non siete dei bravi genitori, evitate di fare figli. Di persone al mondo di sicuro ce ne sono già troppe, e farne nascere altre solo per un capriccio direi che non ha senso ed è un atto estremamente egoista. Chiuso questo piccolo sfogo personale, parliamo dell'ipocrisia di Jeff. Ipocrita non solo perché prima non voleva i figli di Michelle e poi ha cambiato idea volendone suoi. Ma anche perché quando poi sono nati i suoi due figli fatti con lei, li ha trattati benissimo. Cioè Jeff, lo stesso che ha gettato Jamie da un ato in corsa, riesce ad essere un buon padre in qualche modo, ma solo per i suoi figli. Infatti a questo punto rende ancora più evidente la sua antipatia nei confronti di Jamie. Praticamente lo isola, lo fa sentire solo in quella casa, non voluto, come se fosse un estraneo. Perché? Bella domanda, infatti se lo chiede anche Jamie, anche perché veniva davvero trattato come diverso. Si dice per esempio che a cena Jeff, Michelle e i loro figli, di loro due, potevano mangiare, ma Jamie no. Jamie era costretto a stare lì seduto in mezzo a loro con un piatto davanti, vuoto, obbligato a guardarli mentre mangiavano e lui non poteva farlo. E solo una volta che tutti avevano finito, gli servivano il cibo. Ma non glielo servivano nel piatto, glielo buttavano a terra. Cioè una cosa che, pensateci, neanche i prigionieri vengono trattati così. E lui era ancora un bambino. Jeff, per qualche motivo, odia con tutto se stesso questo bambino. Tanto da lasciarlo fuori al freddo come punizione, o denigrarlo senza pietà davanti a tutti. E in tutto ciò, sua madre Michelle è succupa del compagno e non riesce a fare nulla per lui. Quindi lui, in sostanza, cresce immerso nell'odio e tra vari problemi anche di salute. Ma come già vi ho detto, questo non è tutto. Oltre a tutti questi episodi, ce ne sono altri che fanno davvero rabbrividire. Per esempio, una volta Jamie è stato legato ad un albero da Jeff e frustato con una cintura fino a sanguinare. Questo perché aveva accidentalmente versato del succo per terra. E durante questo episodio, aveva tipo 5 anni. Ma non è tutto, perché anche suo zio una volta, per esempio, gli aveva addirittura attirato un mattone addosso. Cioè, in quel periodo, Jamie per loro è sostanzialmente un bersaglio contro cui lanciare tutto il loro odio. E attenzione, raccontandovi questi episodi non voglio in alcun modo giustificare Jamie per quello che farà assolutamente. Ma è fondamentale capire quali sono le sue origini e qual è sempre stata la sua realtà. In sostanza, è innegabile che ha avuto un'infanzia pessima. Letteralmente tutti lo odiavano o non facevano nulla. Sua madre non faceva nulla. Suo nonno lo odiava. Suo padre John lo odiava. Jeff lo odiava. Lo zio lo odiava. E forse lo odiavano anche i figli di Jeff. Anche se fosse stato il bambino più rompiballe del mondo, non andrebbe trattato così. Spero che su questo siamo tutti d'accordo. Jeff, poi, come vi ho detto, si rivela essere molto peggio di John, perché le sue violenze non si limitano a Jamie, ma si estendono anche verso Michelle. Una volta ha frustato anche lei e le ha versato del sale sulle ferite. Cioè, perché? Quindi è violento proprio con tutti, specialmente con le persone che dovrebbe amare. E così nel tempo tutto questo male, tutta questa violenza, alimenta altro male e altra violenza. È proprio vero che raccogli ciò che semini. Jamie arriva all'età di 12 anni ed è consapevole di aver vissuto in una situazione malsana. Ora è nell'età in cui inizia a capire molte più cose e l'unica cosa che gli viene spontanea è chiedere a sua madre perché, perché non lo aiuta, perché sta ancora con Jeff, perché non ha impedito tutta questa violenza. Michelle purtroppo non riesce a dargli delle risposte precise. Solo anni dopo dirà in un'intervista che a quel tempo era debole e non sapeva come reagire. Ma ecco che non si sa in che modo, non si sa chi abbia organizzato tutto e perché, ma ad un certo punto, finalmente, Jamie e Michelle si trasferiscono dai nonni. Jeff scompare totalmente dalle loro vite e il ragazzino sembra riprendersi, ma purtroppo è solo apparenza, cerca di mascherarlo, ma Jamie a quell'età si sente già svuotato, è apatico e non sembra conoscere l'affetto e la gentilezza. Per anni ha visto solo violenza e adesso che in teoria di violenza non ce n'è più, lui comunque non è felice. Da questo momento in poi nella sua testa si fanno strada desideri oscuri che nella vita adulta diventeranno realtà, replicherà molte delle scene che ha vissuto da bambino. Jamie aveva solo 15 anni quando è stato arrestato per la prima volta. Il motivo per cui è stato arrestato è per aver raccoltellato un ragazzo. Lo spediscono quindi in un riformatorio in cui resta per 4 anni. La vittima dell'attacco è sopravvissuta per miracolo e mentre Jamie è rinchiuso lì, Jeff, muore per un attacco di cuore. Non sappiamo se questo evento abbia scatenato qualcosa nel ragazzo. Sta di fatto che quando esce dalla struttura non va al funerale di Jeff e è finalmente libero da tutti i parenti che lo odiano. Da ora in poi sarà lui a fare del male. Viene rilasciato infatti il 14 settembre 2007 all'età di 19 anni. E non è chiaro che cosa abbia fatto in quel periodo, ma è facile supporre che si sia circondato di brutte compagnie e abbia fatto brutte esperienze. Per esempio in una fonte sul web si spiega che Jamie fosse entrato a far parte di una sorta di gang. Il suo nome d'arte all'interno di questa banda criminale era Lokito, che vuol dire tipo matto, pazzerello. Cioè loco vuol dire pazzo. Quindi Lokito vuol dire tipo pazzino, matterello. Non lo so, credo che non abbia molto senso in italiano. Comunque pare spacciasse droga e armi. Molto presto avviene un'altra svolta nella sua vita. Nel dicembre del 2008 Jamie si trova ad una festa e lì incontra la sua futura moglie. Si chiama Vanessa, ha 37 anni ed è una madre single di tre figli. La festa in questione è organizzata dalla stessa Vanessa per il sedicesimo compleanno di uno dei suoi figli. E non sappiamo come Jamie si sia ritrovato in quella casa. Non conosceva Vanessa e non conosceva suo figlio. Ma comunque Vanessa si sta divertendo molto e vuole fare bella figura con gli amici di suo figlio. Quindi si lascia andare all'alcol e finisce col ballare con uno sconosciuto. Non so come pensava di fare bella figura con i suoi figli sbronzandosi e ballando con sconosciuti. Però fatto sta che un nipote di Vanessa che vede la scena è lì. Vede che sua zia sta ballando con questo sconosciuto. Non gli va bene. Gli fa un po' ripollire il sangue. Così inizia a chiedere in giro se ci fosse qualcuno che poteva allontanare quella persona da lei. E finisce per beccare proprio Jamie. Che accetta volentieri di fargli uno scherzo. Burlone. Però il problema è che questo scherzo sarà parecchio pesante. Cosa succede allora? Jamie si avvicina a lui e a Vanessa. Poi prende un coltello. E inizia a minacciare questo tizio. Poi non contento lo pugnala. Senza andare molto in profondità. E la festa quindi finisce in tragedia perché arriva subito la polizia e sia Jamie che Vanessa vengono tenuti sotto custodia. Lei quella sera stava distribuendo alcol a dei minorenni e vi ricordo che l'età minima per bere negli Stati Uniti è di 21 anni. Ma insomma il nostro Jamie finisce di nuovo dietro le sbarre. Ma questa volta si sente meglio. Perché si innamora di Vanessa. Certo si sono conosciuti in un contesto molto strano e violento. Ma a lui non dispiace. Figuratevi era abituato a contesti del genere. Come vi siete conosciuti? Boh ha coltellato un tizio a caso e ci siamo innamorati. E' andata più o meno così. Per fortuna però in questo caso non è morto nessuno. Jamie quindi dal carcere inizia a scrivere delle lettere a Vanessa. A modo suo prova del sincero affetto nei suoi confronti. E anche lei sembra ricambiare molto volentieri. Sembra non dare troppo peso al fatto che Jamie, un completo estraneo, abbia coltellato un tizio perché ballava con lei. Così i due, per un anno circa, si scrivono di continuo. Poi arriva il novembre 2009, periodo in cui Jamie sarebbe uscito dal carcere. Vanessa si offre di andare a prenderlo ed è molto emozionata all'idea di rivederlo dopo tutto quel tempo. È un momento speciale per loro. Lei quindi va da lui, va a prenderlo e si stranisce un po' a vedere che è pieno di tatuaggi inquietanti in faccia. Ma le fa comunque piacere la sua presenza. Jamie dal canto suo vuole stare in intimità con questa donna e le chiede di andare in un motel. Cosa si fa nei motel in America? Ecco. Lei accetta, vanno in questo motel, fanno le loro robe e Vanessa rimane incinta. Subito, così. Non hanno proprio perso tempo. Lui appena lo scopre, in realtà, la prende bene. Per quanto abbia un carattere tutt'altro che pacifico, in realtà vuole provare ad essere migliore. Vorrebbe essere senz'altro una figura paterna migliore di quelle che ha avuto lui. Vuole provarci, sente di voler dare a suo figlio esattamente tutto quello che lui non ha mai avuto. Vanessa, però, in realtà, all'inizio è un po' spiazzata, perché non si aspettava di rimanere incinta. Ma insieme a suo nuovo compagno, vorrebbe comunque sotto sotto creare una famiglia. Entrambi, quindi, hanno genuinamente dei buoni propositi. Sono convinti che tutto andrà bene, che possono fare questa cosa insieme, creando una vera famiglia. Dio mio, quanto si sbagliavano. Prima che nascesse il bambino, i due decidono di sposarsi. E come saprete, una gravidanza è un periodo intenso ed estremamente delicato. Non è facile da portare avanti ed è possibile che in una coppia si creino tensioni. Anche in una coppia normale, figuriamoci tra loro due. Quindi, uniamo questa cosa al fatto che Jamie si rivela per quello che è e otteniamo un ennesimo periodo davvero, davvero tosto. Perché con il tempo, Jamie inizia a comportarsi sempre di più come suo padre biologico e come Jeff. Non è per niente il padre amorevole che voleva essere. Cioè, non ci riesce proprio. In casa, iniziano ad esserci abusi e litigi davvero feroci e preoccupanti. Ma il culmine si raggiunge un giorno in cui, chissà per quale motivo, litigano di nuovo e Jamie fugge di casa con le ceneri della madre di Vanessa. La donna teneva in casa i resti di sua madre e ovviamente ci teneva tantissimo. Lui questa cosa la sapeva. E sapeva anche che quel gesto l'avrebbe fatta infuriare in una maniera mai vista prima. E infatti, dopo la fuga con le ceneri, la donna chiama la polizia. E Jamie viene arrestato ancora una volta. Ma purtroppo, le famose ceneri della madre di Vanessa non verranno mai più trovate. Erano come scomparse nel nulla. E lui non aveva intenzione di parlare. Quindi, immaginate la reazione di Vanessa. Deve essere stato terribile per lei. Ed è un gesto veramente... cattivo da parte di Jamie. In ogni caso, l'uomo trascorre altri sei mesi in galera. E mentre si trova dietro le sbarre, nasce suo figlio. Viene poi rilasciato nel febbraio 2010. E Vanessa, nonostante tutto, gli concede una seconda possibilità. Vuole provare a fidarsi di lui. Vuole vedere se davvero avrebbe mantenuto la promessa di essere un buon padre. Ma come avrete già intuito, il lupo perde il pelo, ma non il vizio. E così Jamie riprende ad abusare della sua compagna, ancora e ancora. Gli abusi iniziano anche a diventare più feroci e pericolosi. Specialmente perché l'uomo ora comincia a fare uso di metanfetamina. Vanessa, d'altro canto, non si meraviglia più. Ormai è abituata al comportamento del suo compagno. Per cui diventa apatica e insensibile. Non prova più emozioni. E si comporta come se quegli abusi non avessero alcun valore. E per tipi come Jamie, questo è inaccettabile. Avete presente i bulli che si arrabbiano se la vittima non reagisce? Ecco, praticamente succede la stessa cosa. Non esageravo prima quando vi ho detto che Jamie, solo adesso, inizia a mostrare la sua vera natura. E dato che diventa anche tossicodipendente, andrà sempre peggio. E tutto ciò proprio nel momento in cui si stava facendo una famiglia. Nel momento in cui sarebbe dovuto diventare una persona migliore. Ma no, per lui è troppo difficile. E ormai maltratta sua moglie solo per il gusto di farlo. Ma vedendo che la sua vittima non reagisce più, si arrabbia ancora di più. E allora da classico bullo si scaglia anche contro altre persone. Ma sempre per avere una reazione da parte sua. Sempre per spingerla ancora un po' più in là. Ed ecco che una sera, l'uomo tira fuori dal letto uno dei tre figli della donna. E lo sbatte con violenza per terra. Vanessa a questo punto non ci vede più. Questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Aveva sopportato questa relazione tossica per troppo tempo. Poteva accettare e convivere con i soprusi su di lei. Ma sui suoi figli no. Non poteva non reagire. Vanessa così quella sera perde la testa. Prende un coltello da cucina e minaccia di morte suo marito. Jamie non se l'aspettava. O meglio sperava in una sua reazione ma non credeva che si sarebbe spinta così in là. In questo momento ha paura di Vanessa. Perché nota in lei uno sguardo omicida. È la prima volta dopo anni che prova un sincero terrore. E dunque cosa fa per risolvere questa situazione? Ve lo giuro che non è uno scherzo. Ma Jamie chiama sua nonna. E si fa venire a prendere. In sostanza scappa con la coda tra le gambe. Quella sera quindi va via con sua nonna. E per fortuna nessuno si fa male. Nessuno si fa troppo male. Trane il bambino che poverino l'ha sbattuto a terra. Cioè vabbè. Di sicuro infatti da questo momento si crea un punto di non ritorno. Jamie è stato sconfitto ma non ha battuto. E ovviamente non riesce ad accettare questo affronto. Ovviamente ha avuto paura quella sera ma è pronto a ritornare a casa da lei. Una volta lì però non trova la Vanessa che conosceva. Adesso lei non lo vuole più tra i piedi. È finita. In poche parole cosa succede? Allora. L'uomo ritorna a casa. Lei però appena lo vede chiama di nuovo la polizia e per l'ennesima volta lui viene arrestato e torna in prigione. Sempre per via delle violenze, degli abusi eccetera. Questa volta resterà dietro le sbarre per sette mesi. È sinceramente sconcertante la quantità di volte in cui Jamie è stato in galera. Ma ovviamente questa non sarà né la prima né l'ultima. E la cosa strana però che mi ha fatto pensare è che nessuno è intervenuto per studiare un po' questo ragazzo. Cioè era chiaro che avesse qualche problema. Ma nessuno è riuscito a capire bene che cosa passasse per la sua mente. Una mente che presto elaborerà ragionamenti sempre più contorti. L'uomo una volta uscito, il giorno stesso della sua scarcerazione, inizia a stalkerare Vanessa. La chiama di continuo e non si stacca più da lei. Diventa la sua ossessione. Comincia letteralmente a perseguitarla. E lei non può fare altro che denunciarlo ancora e ancora. Infatti viene emanato un mandato d'arresto, scusate. Viene emanato un mandato d'arresto, l'ennesimo nei suoi confronti. Ma un giorno Vanessa riceve l'ultima chiamata minatoria da parte di Jamie. Questa è diversa dalle precedenti. Se prima diceva cose del tipo, ti ammatterò, ucciderò i tuoi figli, cose così. Questa volta fa una vera e propria confessione. Le dice di aver commesso un delitto. Queste sono le sue parole. Accendi il notiziario, puttana. Ho ucciso una donna. Al Marocco Motel. Vanessa chiama subito le forze dell'ordine. Ma per qualche motivo loro non la prendono sul serio. E sinceramente non so perché non dovrebbero prenderla sul serio. Cioè tutte le volte che aveva chiamato, puntualmente Jamie aveva davvero fatto qualcosa di pericoloso. Ma a causa di questo, del fatto che non le credono, passano 5 giorni interi. Dopodiché, al Marocco Motel, nella stanza 19, viene ritrovato il corpo senza vita di Yvette Pena. A chiamare le autorità, questa volta, è stato un membro dello staff del Motel. Nella chiamata al 911, infatti, spiegano che il corpo è stato trovato dal ragazzo delle polizie. E la scena del crimine era rivoltante. Anche gli agenti, quando la vedono, rimangono inorriditi. La vittima viene trovata con due coltelli e un paio di forbici nella schiena. Era stata legata e imbavagliata. E aveva il corpo distrutto. Pare che fosse rimasta cosciente per molto tempo prima di morire. Il che vuol dire che ha sofferto dolori allucinanti. Partono quindi le indagini e passano altri 5 giorni. Gli investigatori, finalmente, collegano le prove sulla scena alla chiamata fatta da Vanessa. Scoprono che l'assassino è Jamie Osuna. E vanno subito a cercarlo. Lo trovano a casa dei suoi nonni. E lo arrestano immediatamente. L'uomo viene interrogato e questo interrogatorio, ragazzi, ha dell'incredibile. Prima di tutto nega di aver fatto qualsiasi cosa e parla solo di Vanessa. I detective però gli fanno capire che deve parlare della vittima Yvette, non di sua moglie. Al che Jamie esterna la sua ossessione per Vanessa, dicendo che lei è ovunque e condiziona il suo operato. A questo punto gli fanno notare una certa somiglianza tra Yvette e Vanessa. E gli chiedono un movente. Ipotizzano che avesse tolto la vita a questa ragazza perché era simile a sua moglie. Ma lui smentisce tutto, anzi dice che se avesse voluto togliere la vita a sua moglie, l'avrebbe semplicemente fatto. Non conosceva nemmeno Yvette. Sembra essere stata una vittima del tutto casuale. Questa povera donna era madre di sei figli. E aveva un passato di tossicodipendenza. Il marocco motel, poi, è famoso nella zona per essere frequentato da ex detenuti e persone in generale poco raccomandabili. E siccome Jamie ha entrambe queste caratteristiche, si ritrova nel giro di queste persone pericolose. Ma facendo anche uso di droghe, viene a contatto con Yvette, che vi ricordo era tossicodipendente. Ed è stata proprio la dipendenza ad averli fatti incontrare, trasformando poi Yvette nella vittima perfetta su cui sfogare la sua rabbia repressa. È veramente una vicenda tristissima. Perciò comunque Jamie viene incarcerato e passa cinque anni in carcere in attesa del suo processo. Finita la storia? No, assolutamente no. Perché durante questi anni d'attesa, la sua sete di sangue non si placa. Anzi, da ora in poi, Jamie comincerà a lodare il demonio e diventerà davvero inarrestabile. Diventerà il mostro che oggi tutti conosciamo. Ormai Jamie ha toccato il fondo. Non ha più nulla e questa volta i suoi reati sono peggiori dei precedenti. È molto probabile che rimanga in cella per molto tempo, ma non sembra essere dispiaciuto per questo. Anzi, trova il modo per farsi notare. Un modo terribile, ovviamente, come suo solito. Da questo punto, infatti, Jamie è praticamente irrecuperabile. E in carcere si comporterà in un modo che, fidatevi, non potete neanche immaginarvi. Tanto per cominciare, nell'attesa del suo processo, per qualche motivo, se la prende con un altro detenuto. E cosa fa? Lo pugnala e gli sfregia il volto. Nessuno sa come abbia fatto ad intrufolarsi nella cella di qualcun altro, ma vabbè. Poi, per dispetto, tira contro una guardia una sacca di plastica con dentro del sangue. Una fonte dice che probabilmente si trattava del suo sangue. Non sono riuscito a trovare molti dettagli su questo particolare episodio, ma è solo uno dei tanti. Per fare un altro esempio, nonostante sia in prigione, Jamie ancora insiste con Vanessa. Dal carcere ricomincia a mandarle delle lettere. Ma questa volta non sono delle belle parole colme d'amore. Si tratta di lettere minatorie, si tratta di fogli con sulla scritta muori più volte, oppure viva satana, con tanto di disegnini. Addirittura una delle fonti che ho trovato sul web racconta che è riuscito a spedirle un ratto morto. Il che è davvero strano perché, dai, cioè, nessuno controlla le lettere in quel carcere? In quale carcere si possono fare queste cose? È semplicemente assurdo. Ma, come se non bastasse, Jamie è talmente ossessionato da Vanessa che insiste sul farle togliere i bambini. Contatta vari assistenti sociali e chissà come convince altri detenuti a fare lo stesso. Cioè contattare altri assistenti sociali. Il tutto solo per fare più dispetti possibili. Caso curioso, Vanessa viene effettivamente arrestata per maltrattamento di minori. In sostanza aveva dato uno schiaffo a sua figlia e questa bambina lo ha raccontato alla figlia di una vicina, che lo ha poi raccontato ai suoi che hanno infine contattato le autorità. Quindi, ironia della sorte, entrambi i coniugi finiscono nello stesso carcere. Ovviamente in sezioni separate. E non si sa in che modo, ma Jamie viene a conoscenza di questa cosa. Per cui prende un foglio e inizia a scrivere un piano malefico per uccidere Vanessa. Le guardie però trovano questo fogliettino nella sua giacca. E notano con un certo terrore che si era appuntato ogni dettaglio. Parliamo di istruzioni precise con tanto di numero della cella di Vanessa. Cioè, non so se state immaginando la situazione, ma si tratta di un gesto molto grave. Cioè, come ha fatto a sapere tutte queste informazioni? Probabilmente aveva degli informatori tra i detenuti. Ma a parte questo, ora abbiamo la prova concreta che lui vuole uccidere la sua ormai ex moglie. E nonostante fosse una cosa palese, ovvia, e di cui stare allerta, un giorno accade una cosa particolare. Durante un trasporto di detenuti, sia lui che Vanessa vengono messi nello stesso veicolo insieme ad altri carcerati. Lei fa notare che Jamie è l'uomo che vuole ucciderla, ma sembra che a nessuno freghi niente. Quindi ad un certo punto Jamie urla qualcosa ad una detenuta massiccia che era vicino a Vanessa, una sorta di parola in codice, come se si fossero messi d'accordo prima, e questa detenuta massiccia comincia a prendere a botte Vanessa con una violenza mostruosa. Il veicolo però in questo momento era già arrivato a destinazione, per cui fanno in fretta a fermare l'aggressione. E quello che poteva tranquillamente diventare un omicidio, diventa solo, tra virgolette, un tentato omicidio. Dopo questo episodio viene esaminato per bene il caso di Vanessa, finalmente, e viene quindi scarcerata, senza sporcarle la fidina penale. Però ha rischiato grosso, e ha avuto la conferma ufficiale che l'uomo che aveva sposato era davvero un mostro. E lui ammetterà di esserlo finalmente, perché per anni aveva smentito le accuse, malgrado fossero evidenti. Questa volta però, dopo tutto quello che è successo, vuole dire le cose come stanno. E lo fa, tre giorni prima del processo, davanti ad una telecamera, e davanti a una reporter che ascolta, annota e registra tutto. In questa intervista, che definirei pietosa e inquietante, Jamie esordisce affermando di essere un assassino. Poi conferma, e afferma, tante altre cose. Diciamo che si lascia andare in uno strano sproloquio. È calmo, ma sembra vantarsi. Nel senso che pare voler apparire come un grande serial killer. Perché afferma di aver già tolto la vita in passato, ben prima di Yvette. Il che, devo specificare, è falso. Sostanzialmente si vanta di cose mai successe, ma ormai è perso nei suoi pensieri deliranti che lo perseguitano giorno e notte. Se dopo questo video volete vedere questa intervista, potete trovarla scrivendo su YouTube Intervista Jamie Osuna. Vi dico di cercarla perché tanto so che mi dimenticherò di mettere il link nella descrizione, per cui, se lo volete, dopo il video, cercatelo. Comunque, al processo, si nota ancora di più la follia di Jamie. Ormai ha il volto coperto di tatuaggi davvero inquietanti, tra cui uno strano sorriso che più avanti gli garantirà il soprannome di Real Life Joker. Ovvero il Joker della vita reale. Al processo sorride, gesticola, fa dei versacci, sbadiglia. Cioè, sembra proprio un bambino capriccioso. È profondamente irritante e al tempo stesso inquietante. Infatti, l'intento al processo era quello di condannarlo a morte, ma con un accordo tra difesa e accusa, alla fine lo condannano all'ergastolo. Questa volta deve andare in un carcere di massima sicurezza, dove, almeno in teoria, non avrebbe potuto più comportarsi in quei modi così violenti. In teoria. 8 anni dopo, abbastanza di recente, molti giornali pubblicano una notizia assurda. 19 marzo 2019. Jamie Osuna, di 31 anni, ha fabbricato un rasoio improvvisato e lo ha usato per decattare il suo compagno di cella. La vittima si chiamava Luis Romero e aveva 44 anni. Jamie non aveva mai avuto alcun compagno di cella dal 2011 fino al marzo del 2019 e appena gliene hanno assegnato uno, ha fatto questo. A quanto pare è riuscito di nuovo a fare del male ad un carcerato. Ma questa volta si è proprio accanito su questo Luis. Il delitto è stato particolarmente cruento e non sembra esserci un motivo preciso. Jamie ha rimosso gli occhi alla vittima, le ha tolto un dito e parte di uno dei suoi polmoni. Poi gli ha tagliato i bordi della bocca per far sembrare che stesse sorridendo. Anche qui somiglianze con Joker. Infine gli ha anche staccato la testa e ha usato alcune sue parti per farsi una collanina. E tutto questo con una semplice lama. Si è davvero impegnato per fare una cosa del genere. Cioè, pensate a quanto tempo ci ha impiegato. Non è una cosa che riesce a fare in qualche minuto. Jamie, tuttavia, viene trovato dalle guardie, ma troppo tardi. Ormai quello schifoso crimine, perché schifoso, veramente, ha fatto tutto con una lama. Cioè, con una lama. Comunque, quello schifoso crimine ormai è avvenuto. E che è alquanto sospetto. Com'è possibile che in una prigione di massima sicurezza un detenuto abbia fabbricato un'arma, comunque, l'ha usata come arma? Com'è possibile? E soprattutto, com'è possibile che nessuno abbia sentito la vittima urlare? Le guardie hanno riferito che entrambi gli uomini stavano bene durante i loro giri notturni. E solo la mattina seguente Jamie è stato colto in flagrante. Ma ormai di Luis era rimasto ben poco. Quindi si crede che il Dipartimento di Correzione e Riabilitazione della California abbia svolto un'indagine inadeguata sull'incidente. Una delle guardie ha mentito. E il Dipartimento non è riuscito a interrogare i testimoni chiave coinvolti nel caso. Un po' un casino. La famiglia di Luis Romero, poi, pensa che le sbarre della cella fossero coperte da un lenzuolo che impediva di vedere al suo interno. Non ho sinceramente capito che cosa vuol dire, ma fatto sta che ogni volta che Jamie si trova in un carcere, questo carcere si rivela problematico o inefficiente. Cioè, non sa gestirlo. Sembra, infatti, che le guardie non avessero condotto un controllo approfondito su quella cella. Il luogo, insomma, che sarebbe diventato una scena del crimine. In sostanza è chiaro che tutto ciò si sarebbe potuto evitare, ecco. L'avvocato della famiglia di Luis, un uomo di nome Justin Sterling, sostiene che il delitto sarebbe durato addirittura ore. Secondo lui, potevano intervenire benissimo ed evitare questa morte tragica. Ma il Dipartimento Penitenziario dello Stato ha respinto le accuse del rapporto di Justin e ha sostenuto di aver svolto un'indagine approfondita e completa fin dall'inizio. Quindi a questa storia complessa si aggiungono anche le faide interne. Ma tralasciando ciò, Jamie Osuna viene mandato in una prigione psichiatrica e lì gli vengono diagnosticati il disturbo antisociale di personalità, il disturbo borderline di personalità e la schizofrenia. Nel marzo del 2021 viene giudicato incapace di sostenere un processo per la morte di Luis Romero. Il rapporto afferma che uno degli agenti che presumibilmente ha mentito durante le indagini è stato inizialmente licenziato, mentre il secondo ha subito una riduzione dello stipendio in seguito all'incidente. Cosa c'entra? Niente, volevo solo dirvelo. E perciò rimaniamo comunque in attesa di una nuova sentenza, se mai ci sarà, e se ci sarà potrebbe addirittura condannare a morte Jamie. Per molti sarebbe un sollievo stando all'odio che ha generato negli anni. Sembra davvero un caso irrecuperabile, specialmente per via del suo passato traumatico. Oppure, chissà, magari c'è qualcosa dentro di lui che non c'entra niente con il suo passato. Se vi ricordate, anche il suo fratellastro ha subito per buona parte della sua vita degli abusi, ma intanto lui è riuscito a riprendersi e sta facendo una vita, diciamo, normale. La domanda che mi faccio e che vi faccio è... Jamie è vittima degli eventi che hanno quindi causato anche le sue varie psicopatologie? Oppure ha sempre avuto qualcosa di malvagio dentro? Come al solito, fatemi sapere tutto ciò che pensate. Intanto, ai pochissimi che rimangono fino a qui, anticipo che la prossima settimana parliamo di una famiglia inusuale. Una famiglia che faceva video su YouTube e che per un motivo molto controverso ha smesso di farli. Ok, dicendo solo questo potete già immaginare che non finisce bene. Spero quindi che rimarrete nei paraggi, per cui se vi ho incuriositi ricordate di massacrare il pulsante iscriviti. E adesso parlo con te. Sì, proprio con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare, ti consiglio questa storia da brividi, oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo. Vi ricordo di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei. E niente, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì, con un altro file. Ciao!